Pasqualina Un abitato adatto ad accogliere esemplari di uccelli migratori che fino ad una decina di anni fa si fermavano nella zona. Il progetto intende anche coinvolgere le istituzioni, le scuole e i privati per organizzare incontri didattici e percorsi per avvicinare i bambini alla natura e al mondo degli animali.